Benvenuti ragazzi qui è FGO ed eccomi arrivati con il secondo trickshot tutorial su Mv2 e oggi cercherò di insegnarvi il barrieroll il barrieroll è un movimento molto figo che si fa con alcuni fucile a pompa che dopo vi farò vedere tutti per bene quali sono e che movimento fanno e il movimento è simile, cioè i tasti che dovete premere sono uguali all'over two shoulder però passate dalla primaria alla secondaria che è un fucile a pompa voi fate triangolo e un secondo prima di vedere lo spasso, l'altro fucile a pompa fate scatto triangolo triangolo così triangolo, adesso scatto triangolo triangolo proprio mezzo secondo prima di vedere la secondaria il fucile a pompa in questo caso fate scatto triangolo triangolo no, è stato troppo tardi adesso adesso scatto triangolo triangolo e in base ai millesimi di secondi potrà venirvi diverso tipo o così oppure così comunque secondo me sono figli entrambi ora vi farò vedere con gli altri pompa quali sono e come escono ok ragazzi eccomi allora con lo striker, questo fucile a pompa qua se avete meno munizioni meglio eh perché almeno dopo che avete fatto il barri roll a passare di nuovo all'intervention ci mettete di meno guardate come viene con lo striker vedete che figata? tipo gira su se stesso ok ora vi faccio vedere con gli altri ok ragazzi con l'AA12 che è questo fucile a pompa qua che figo ok con l'AA12 vediamo com'è ah passa la mano ah si è l'AA12 fake si chiama passa la mano in mezzo all'arma figo questo ok ragazzi infine con l'M1014 che è uguale allo spas allora i fucile a pompa che vi ho fatto vedere sono gli unici che fanno un barri roll decente eh spero che questo video diciamo vi sia stato utile vi sia piaciuto eh commentatevi scrivendomi magari che trickshot volete che vi insegni a 30 like faccio uscire il terzo episodio faccio il terzo episodio iscrivetevi e bella ah no 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 scusate scusate l'ultima cosa ringrazio tanto Atax Shark, JXL Blitz e Iso Cush che mi hanno fatto setup per eseguire i colpi che adesso vedrete vi lascio le killcam da SafeJoe è tutto bella grazie a tutti 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 grazie a tutti